Domani è una partita evidentemente importante per riprendere il discorso secondo posto, può essere anche l'occasione per accrescere quell'autostima, quella convinzione che forse la partita contro lo Suanzi ha restituito o quantomeno, in quanto di essere su tre fronti ancora impegnati? Sì, il problema è che noi dobbiamo sempre guardare non solo il risultato, alla fine il Suanzi è stata una partita difficile, abbiamo vinto e questo dà un po' di fiducia a tutti, ma credo che nel primo tempo del Genoa l'abbiamo fatto benissimo, per me questa è la chiave, continuare a fare le cose che sappiamo che possiamo fare bene e con questa idea, con questo atteggiamento sicuro che se vinci di più la fiducia c'è, non è una questione che si perda ogni giorno, credo che il discorso nostro è continuare con il lavoro che si fa in campo ogni giorno e dopo nella partita si deve vedere.